Per settimana sport siamo con Ivan Badamassi del Murangeli. Allora Ivan, numero 9, diciamo ti sei battuto molto bene contro una difesa arcigna, però quel gol che potevi fare nel primo tempo, quello lì, diciamo avrebbe forse cambiato per un po' l'esito della partita. Certo, certo. Già giochiamo contro una squadra forte, lo dobbiamo dire, e se faccio gol mi sa che c'è, porta la squadra, dà la squadra un po' di più, un po' di gol. Vabbè, ad ogni modo visto che tu ti sei impegnato fino alla fine, fino all'ultimo minuto, ci hai sempre creduto, ti sei battuto con dei difensori Tosti e D'Arcigni? Sì, sì, è quello che chiede il mister di non molare. Dobbiamo entrare con la testa giusta e dobbiamo dare tutto fino alla fine. Ad ogni modo penso che tu possa essere soddisfatto della tua prestazione oggi, l'unica nota negativa è quella palla gol che diciamo tra virgolette ti sei mangiato, dai. Certo, certo, posso essere soddisfatto ma il più importante è la squadra, abbiamo perso contro una squadra forte e è così. Vabbè, dai, grazie Ivan, ciao in bocca al lupo, ciao.